Un centro storico sempre più a misura di persona, dove si potrà passeggiare in tranquillità in una sorta di grande salotto a cielo aperto, libero da smog e da auto. La Giunta di Fano ha approvato la proposta dell'assessore Fabiola Tonelli. Tra le novità più importanti, oltre all'estensione della ZTL, c'è quella di Piazza Anderacosta, che seguendo l'esempio di Piazza 20 Settembre, verrà chiusa al traffico. Quasi il 90% del nostro centro storico è già in ZTL. Noi aumenteremo quest'area includendo Piazza Anderacosta e Via Nolfi lato nord, quindi da Via Arco d'Augusto fino al parcheggio della Rocca Malatestiana. Potranno accederci solo i residenti attraverso il permesso e gli operatori per il carico e scarico. Quindi Piazza Anderacosta verrà restituita alle persone. Già moltissimi esercenti di questa piazza hanno chiesto l'estensione del suolo pubblico, che noi come amministrazione abbiamo già deliberato di concedere questo spazio. E siamo molto contenti di questo, perché questa area ha del potenziale molto bella e deve essere assolutamente valorizzata. Rimane invariato invece il mercato mattutino che continuerà il suo regolare svolgimento. Nell'ottica di una città più sostenibile, un altro importante intervento riguarda poi la pedonalizzazione a fascia oraria di alcune vie del centro. Le principali sono Corso Matteotti, Via Bovio, Via Arco d'Augusto, Piazza Anderacosta, Piazza 20 Settembre, Via Ogolino dei Pili, Via San Francesco d'Assisi e parte di Via Garibaldi. Per pedonalizzazione si intende a fascia oraria, quindi solamente dalle 19 alle 24 i residenti non potranno transitare in quelle determinate vie. La maggior parte dei residenti riuscirà ad accedere nei propri garage o per il carico e scarico, perché abbiamo creato delle situazioni in cui loro riusciranno a transitare. E' fatta eccezione per queste vie che vedete nella mappa, tutte le linee gialle sono le aree dove non si potrà transitare. Ci saranno inoltre due modifiche alla viabilità, l'inversione di marcia di Via Francesco de' Borgoggelli e Via Alessandrini, ma solo nel tratto davanti ai giardini radicioni. La sperimentazione, che partirà da metà settembre fino alla fine dell'anno, è stata condivisa con gli operatori, spiega Tonelli, e sarà monitorata per valutare le azioni successive. Già molte città già da tempo stanno lavorando sulle pedonalizzazioni di certe aree, quindi non è niente di nuovo, ma è un grande passo per la nostra città.